Alle elezioni amministrative i cittadini hanno chiesto al centrodestra una proposta compatta e credibile per il Governo della Nazione. Fratelli d'Italia è già al lavoro su questo, invitiamo gli alleati a una manifestazione contro la proposta con la quale la sinistra vuole rendere automatica la cittadinanza per gli immigrati il prossimo martedì e questo sabato organizziamo un'iniziativa dal titolo Famiglia Welfare d'Italia per rimettere la famiglia al centro della nostra proposta politica.